Ma Italo? Ma l'Italia è la folgore? Ma sei stato nella folgore? Sì, sì, ho fatto il militare lì. Ah, ma hai fatto anche missioni all'estero? Sì, mi hanno mandato la prima missione in Iraq. E cosa facevi in Iraq? Paracadutista boscaiolo. Ma non ce ne sono alberi in Iraq? Ah, va!